Oggi nella prima parte abbiamo ascoltato quelle che sono le patologie, i sintomi e perché no anche le modalità per non cadere nelle maglie dell'usura. Abbiamo sentito il procuratore Rossi quando senza mezzi termini ha detto che lo Stato nasconde dietro quel gioco una forte attrazione e una concentrazione del debito che può in qualche maniera essere alimentato da un svolto penalistico dovuto al riciclaggio di denaro da affari illeciti. Nella seconda parte invece vedremo in qualche maniera quelli che sono gli strumenti giuridici che consentono a un'ammersione anticipata della crisi e in seconda battuta anche a risolvere in maniera secondaria quindi postuma quello che è un problema che attanaglia le famiglie perché il singolo non è singolo è una famiglia. Siamo qui davanti in questa sala che è bellissima e prima che ero in prima fila guardavo se tu guardi alle nostre spalle c'è un magnifico come dire una magnifica opera divisa in cinque tronconi. A sinistra se tu noti il primo a sinistra ne parlerò dopo raffigura proprio la colonna degli infami che è stata la prima forma di sdebitazione cosiddetta civile venivano legati lo vediamo lì incatenati gli uomini che non potevano non insolventi civili. Quindi all'ennesima dimostrazione che oggi ci troviamo qui perché non è solo un problema secondario perché ripartire si può e si deve certo nel rispetto di quelle che sono le norme.